solo salti e rettel ok m ok dai stai spedto dove muove il legno non vedo neanche eh non c'è troppo spedto dove muove il legno ma che si può creare la star factory i'm too low, i'm too low, i'm too low, i'm too low, i'm too low oh diiiiisiii si tu no etter e lolele ah ti smi tu desti come ho del pompeo mi presi z eh patrick, pridi spammi ga, spammi ga, spammi ga chica grta d' mene bije ma c'la ti mi kjel snive ne nisam chupat druga strana mana shotgun, nisam mogu jesam upe jare g c'è c'è chica 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 ma vorrei tutto questo è tutto tutto. non è stato l'altro no, non è. o se le prende la riazza è stato un pochetto ma non è che quello che mi fa è il pochetto è un pochetto che tu sai? chi sa cos'è? ah 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 non si c'è una scuola ah.. non si c'è una scuola ok, grazie la scuola ma scuola la scuola lì ho una scuola è il giù è il bè oh mio ma sei un'evoca non è non è è overplayed un'evoca non ho capito non ho capito non ho capito D'accordo. Pagto non... ...biuta. C'è un'gazza fuoco? C'è un'gazza fuoco? C'è un'gazza fuoco? C'è un'gazza. Alpambo. È scerto? Fallant... Qualc'è au che il sacco deacyjno? Mh'è caldi? Va vero l' notions che è il citato. Non, mi raccontino qui ci ultipliada il sacco. Questo può fare meglio senza giù strana. Perchè~~ C'è un' RESPERFAació. Non mi piace, non mi piace. Non si può fare. Oh, c***o. Non si può fare, non so, ma non so. Si, non so, non so. Sì, 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 sì. no, non, non sono ancora più non si vedi, non si vedi bene, non si vedi ma è successo non si vedi adesso andiamo a ripetere non si vedi 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 sì ma lì rai no ma no ma veramente No, 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 no. B**** No, 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 no. Oh, that's it. Yes, I see. Sì. Mi sembra che non ci rende a subito materiale. Come sentire. Checola, 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 checola? Perché i gli sentiti. Qui è l'impasto? Non lo so. oh it's a f***ing dropper ok 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 mlaho z razdalje palil vrst da bodo vedeli z kje jih je doletelo eto prvji krog se še ni zaključil vh je 34 jep po kje pohaljali ljudje te dni značem z osih so mi dva ena izmed tistih ja po dobra odsajali vzapalja blizu No, 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 no. Non so vraci, non ho. 600 l'av, anche qui mi è podora, tra le tre, quando si rasse, ma è questa animazione. Ja. Mi sono davvero. Ma sono un pocci, con un pocci. Ci sono tutti gli ultimi? Vedo l'ulto, no. è per me ne louto bluupump a già 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 mam da bluupump oh metti uh brenet lancio mi schiagra cat no, non, ho, posso ma se mette qui, se mette qui se mette qui io sono qui, ti prendi qui se mette qui PRONOMO GORE E questo? Non c'è il culo. Mi sembrava anche così. Per me sembrava anche così. Per me sembrava. C'è un po' proprio che si fuga da socr. Mi chiede, mi chiede 5.140 euro, ci siamo. Mi chiede. Mi chiede, mi chiede. Mi chiede, mi chiede 5 euro. Sì così Sì 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 for the manager i think that i know that much of the tutus smarty chris sanamato la residenza progresso in terms of a tricester tricera toksa posmano pochettico dubbio chi studi minima miocchi inizia che cosa provano che cazzo stavano il turn of the container è successo whaaaat è che sembuol che fucon masi o arà non sembra ma ora è ven da ai snipe ma è hattic perchè non c'è te dire ma bella nechid mi ora e shea ab me un granite lancer epic alvemeo epic bolt e nemmeno di te le dvemmeno esbrati mi sono raggiunto che nemmeno abbia tukare andam ponte l'epo si build Quindi io sono arrivato, sono arrivato l'initiquità di una spiegazione. L'ho 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 l'ha il 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 l'ho l'ho l'ha. L'ho il è tutto il l'ho l'ho. Non, 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 non un è stato l'ho. Non, non è stato l'ho 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 l'ho. L'ho 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 l'ho? Non, non c'è un l'ho l'ho l'ho. sono volentieri andambo la stessa dell'amonica non amo ma se ne vede ma piaccia per te svegliere l'amore il vero che c'è l'ar il seno ok la trattata se crei che mi piace il piatto è stato si è stato un testo non è stato un pochino la storia il caso è stato il suo spazio non ci sono una persona che è stato un pochino che è stato un pochino non mi neanche subito bo le kuker polisti kirk krokke spoli l'akusica o l'abrata ok è stato semplice che sono palato in come stiga il sanno la massa blaba incommite edruccio mesmerism io sono io sono io sono non mi sono io mi piaceva che ci sono qui è tutto o non 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 è che devo farbino e che sono freddo non è che te pique io avvicino sono un sacco anche un poesco l'unico anche ben di già a no no ok, non è panico non c'è un racket non c'è un basso, vediamo, eh, non c'è un bel c'è un problema, non c'è, non c'è Sì Non c'è blizzo. Mi so da gre po soplaje pa ni mogo jeti. Ok, neki napadani so. Ti mi napazzam na telo levo, telo neeno. Neeno. O, v Dusty sa. O, neeno. Bravaj sem Dusty do konca. Na strieh Dusty. Vidiš enge reva ne kaskàče. Pizda, to bi sva tako zasrava. Mi se na krohu sa. To je važno. To je nek plus. Ne je dobra posteti kaj velika tu. Bi mi dal malo lesak, da imaš več to tudi bez. Na. Tam imaš neki. Ti glej une. Kjera? Ti smo gledo na seju. Ti smo pa te na seju. Bi svejt sem jel. To nimaš izmer. Na. Dobran avica ješ izmer sa tam. Zdravo. Kaj? Me dva so. Un revan ješ solo. Neskira nekaj nekaj nekaj. Bi svejt sem jel. Un revan ješ solo. Neskira nekaj nekaj nekaj. No, nekaj nekaj nekaj. Sem tako ga nedalajne o češi. O, vidim ga. Ok. Ok, nekaj 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 nekaj. la sala anastasia buzzer ante la viola party for and that q what are you doing il dv what are you doing manisica coin esisting a manager as a comini metrisa panio senti poi and i'm going to be just asia No, 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 no. Chiaro da chi da? Ah, ne, vedi che è bene perchè ti ha due mame, high ground. Cosa è? Ah? È pono. Chiaro da no. Chiaro da no. Chiaro da no. non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace non pari a aprici dopo che le conti nazbenditi e ti sei attraverso tritettere campo flanke mochina provi che si solo prima mia anna heran sono progetti che ne ha detto tempo non è un anno che era un papà di come stai con inizia ma che è che seconda l'amico non potremmo da problematica sanitario ozano da servo attacca che c'è stato la partenza di una campanita il senso del bambino l'advento le consuma una raccetta attestino la città la città la città no le scaccio what are you doing no se non gredo al ma pazzo dober mi sto i d'la oni su kroh kar nis labo maš launchpad ne ok ok tada sem dobro snipet v kroh veš aj nema vahatega sve že huj, sve že ninja vbilo narej hali vratiš ti bajati ti v kempa a haj kamo o da ste bila po blizu onen jest o ne no skočil nisem ne no skočil nisem naj bom blowje dvakrat sem ga s heviem tuk lahko v izi ubiješ rocket launcher ma mi dvoga nismo imel spodi pri meni spodi pri meni spodi pri meni spodi pri meni eko izi set kilo ne 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 po ne 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 Sì, non si sapevo prima di vedere, secondo me si non si è erano già da vedere. Sì, non si era così. Non si era così. Non si era così. Non si era così, non si era così. Non si era così, non si era così, non si era così.